Ciao a tutti amici di Sbam, io sono Cook. E io sono Max. Come stiamo Max stasera? Dobbiamo farlo, facciamolo. Iniziamo a elencare questi zavagli. Allora stasera... intanto stasera Max sarebbe dovuto essere una partita di Age of Empire a una lanna. E l'ho paccata per vedere questo mucchio di ferro. Bello. Vabbè tanto alla fine avresti vinto. Sì ma proprio per quello volevo andarci. Sì in questo momento senza di lui stanno festeggiando perché finalmente è andato via Max fuori dai coglioni e possiamo giocare e divertirci. Va bene allora cosa facciamo stasera? A parte brontolare stasera presentiamo quella puntata dedicata ai semi automatici e ai fucili semi automatici della seconda guerra mondiale comunque di quel periodo lì. Quindi analizzeremo a largo modo insomma grosso modo la storia in poche parole e poi analizzeremo soprattutto le meccaniche di ogni modello. Allora e da cosa cominciamo Max? Qual è quello più vecchio? Allora se partiamo da quelli più vecchi iniziamo dai progetti coevi ovvero il Garand che nasce nel 1936 e il progetto più o meno coevo ovvero i semi automatici russi che anche si nascono nel 1936. Il Garand nasce nel 1936 già come arma più o meno a sé. Nel 1936 i russi iniziano il loro programma di semi automatici. Iniziano dall'AWS 36 creato da Simonov che in futuro diventerà famoso per un'altra cosa. Quindi iniziamo a vedere i due approcci dei due paesi. L'America decise di iniziare a costruire il Garand con un sistema di recupero basato sulla sulla presa di gas posizionata dopo la volata, sistema gas trap. Mentre invece i russi già nel 1936 iniziavano già con le prese di gas a metà della canna quindi che lavoravano con i gas vivi quindi gas ad alta pressione meno sporcanti e quindi diciamo col seno di poi perché allora sì insomma allora si sperimentava giustamente e col seno di poi una soluzione decisamente più intelligente. Meccanicamente analizziamoli. Vai Max. Garand. Dove davvero elencare le cose che non mi piacciono. Si. Vediamo il Garand fatto da un francese. Bello. Testina rotante. L'astrina integrale una cosa molto furba. Bellissima. Beh vabbè dai considera che alla fine è un po' un dito in culo per noi dobbiamo comprare le lastrine che se non ci dimentichiamo e se ci dimentichiamo le lastrine siamo nella merda però all'epoca all'epoca un esercito che ha un esercito che ha la possibilità di farsi arrivare tonnellate di colpi già incastrati nelle lastrine a me non sembra un sistema così tanto del cazzo cioè tutti ci dicono peste corna però secondo me insomma alla fine gli altri in confronto al coevo. Il coevo ok dovevano dargli in teoria nascevano per dargli tre caricatori però i compagni hanno deciso che tre caricatori erano troppi se gliene davano tre li perdevano tutti quindi a cosa hanno fatto gliene davano uno quindi finito finiti dieci colpi nel caricatore cosa facevano davano alla strina da cinque come nel Mosi quindi alla fine secondo me torniamo a dire che il sistema lastrine non era così tanto stupido dio cristo perché comunque hai la possibilità di caricare sempre con otto colpi ok è complesso viene un meccanismo complesso però dai insomma qua già da qui si vede chi aveva più soldi perché questo ha più pezzi un casino da montare questo ne ha un po di meno si diciamo che i russi hanno scelto con questo sistema qua un approccio diverso hanno i russi hanno puntato troppo forse sì veramente troppo sul voler fare un fucile leggero in effetti il tocker aveva un fucile molto leggero perché pesa tre chili e tre chili e otto mi pare tre chili e tre chili e sette tre chili e otto che è poco considerando un fucile semiautomatico la gente deve portarsene in spalla tra girare con cinque chili e tre chili preferisco girare con quattro chili va bene scelte personali però tanto le botte che da quello non sono maggiori di quelle che da questo sì diciamo che questo però pesa di più ma può contare su una precisione maggiore perché il tokarev era proprio costruito al limite cioè era proprio tirato via tutto quello che potevano tirare via è un bel fucile non nulla da dire a me piace da matti il tokarev io ci vado e ci impazzisco però è talmente leggero che la struttura flette talmente tanto che c'hai sempre ogni tanto dei colpi a cazzo cioè ha una precisione insufficiente soprattutto in quanto cioè come fucile da battaglia poteva anche andare perché comunque cioè aveva comunque la precisione che ha 100 metri 200 metri anche 300 metri quindi generalmente se spari alla figura la prendi però diciamo era insufficiente questa precisione perché perché in teoria il tokarev nasceva come fucile universale doveva essere il fucile da fanteria doveva essere anche il fucile sniper sempre che infatti veniva costruito e questo non ce l'ha perché questo qua è quello di Yaku ed è un 41 comunque dopo una certa data li costruivano non li costruivano più tutti con le fresature per montarci il montaggio ottica più anche perché avevano visto che sì la precisione del svt era insufficiente per questo ruolo continuano a preferire giustamente il mosin naga ma era pensato per i climi del posto sì questo sì cioè allora aveva quelle tolleranze per sopportare quel bel fresco che c'hanno laggiù sì questo è vero in parte perché comunque il tokarev a differenza degli altri fucile classici fucili sovietici che quindi siamo abituati a a pensare ai sovietici come dei dei zavaglioni che fanno armi con delle tolleranze larghissime in realtà il tokarev era abbastanza fine come lavorazione ed era una cosa particolare infatti i suoi soldati piaceva il giusto proprio per quello lì era un fucile che andava tenuto bene non non era un fucile tipo a cappa che funzionava anche immerso nel pantano il tokarev andava tenuto un pochino coi guantini e questo anche perché torniamo a dire che i russi siano arrivati a questo fucile appunto nel nel 36 anche perché diciamo nel periodo tra le due guerre noi adesso siamo abituati a pensare ai sovietici come insomma un po un esercito di buttalà in realtà tra le due guerre i sovietici erano tutto fuorché arretrati anzi erano stati diciamo pionieri avevano pionierizzato si può dire no sì insomma erano stati pionieristici in un sacco di di ambiti nel campo militare quindi tra cui i fucili semiautomatici nell'ambito dei carri armati nell'ambito dell'aviazione stati i primi paracadutisti esatto esatto e insomma erano tutto fuorché degli sprovveduti insomma erano e appunto questo qua doveva essere l'equipaggiamento dell'esercito con interamente con armi semiautomatiche doveva essere proprio il culmine di questo sviluppo militare che aveva intrapreso l'armata rossa nel periodo tra le due guerre e poi che dire questo qua come sistema di recupero cos'è un com'è che si chiama questo affare qua il timbolt lo l'otturatore oscillante il porto atturatore muove l'otturatore vediamo adesso la percussore l'otturatore viene tirato indietro dal porto atturatore che quando va in chiusura si incastra nella sua sede ed è perfetto inammovibile certo è meno raffinato del testina rotante ma è comunque molto robusto e affidabile ok ecco una cosa interessante che condividono sia il Garand che il Tokarev è la particolarità di essere fucili costruiti integralmente con un gioco di incastri perché sia il Garand che il Tokarev di viti non ne hanno manco una anzi il Tokarev l'unica vite che ha è quella della cross bolt che è quella che svitando la TET può diciamo svincolare la meccanica il fusto dalla calciatura ecco questa è l'unica vite che c'è sul Tokarev il Garand non ha nemmeno quella ecco ecco il Garand vabbè c'ha quelle sugli organi di mira ma va bene ecco infatti anche vediamo un'altra differenza qua abbiamo una la classica rampa tipo Mosin Nagant quindi con incrementi di cosa sono di 100 metri in 100 metri il Garand ha un tornio un sistema finissimo e spettacolare per un fucile da guerra forse nemmeno troppo necessario si può dire però gli americani da sempre hanno costruito armi da guerra con la quelle potenzialità di armi da tiro di lusso infatti questo è un sistema micrometrico con aggiustamenti di deriva questo qua è un lavoro un lavoro meraviglioso il Tokarev per aggiustare la deriva bisogna bisogna spostare il mirino davanti come come in un fucile vecchio stile il Garand anche da quel punto di vista lì è eccezionale è chiaro uno dice scoppia una guerra che fucile ti porti dietro questo o questo effettivamente le spalle sono le mie me lo porto dietro io quello quindi sì è questo è questo intanto per analizzare i primi due che sono anche probabilmente i più importanti perché sono quelli che hanno rappresentato le innovazioni maggiori e anche quelli che sono stati usati il Tokarev il Tokarev è stato usato durante la guerra è stato usatissimo dai tedeschi che ne hanno catturati all'inizio dell'operazione barbarossa ne hanno catturati delle centinaia di migliaia e li hanno li hanno redistribuiti nell'esercito che li ha apprezzati tantissimo e ha portato in seguito lo vedremo dopo allo sviluppo di questo e stessa cosa i finlandesi anche i finlandesi hanno catturato tonnellate no tonnellate ne hanno catturati meno credo 20.000 e uno ce l'ho io e di svt li hanno usati anche loro i finlandesi li apprezzavano meno a dire la verità dei tedeschi li amavano i finlandesi li apprezzavano un po' meno ma quello ne parleremo a tempo debito quando presenteremo il mio quindi a questo punto vediamo anche che usiamo questo come punto di partenza per parlare degli altri due in quanto sono dirette evoluzioni si può dire del del sistema soprattutto questo quindi accantoniamo un attimo garand e svt e passiamo a questi due bagaglioni cosa sono questo è il gaver 43 è fatto appunto nel adottato per i tedeschi nell'anno 1943 mentre invece questo qua che diciamo l'abbiamo fatto entrare un pochino di sgamo perché è un fucile che non ha fatto la guerra però l'ha vista e era stato sviluppato in quegli anni quindi ci sembrava giusto includerlo questo qui è la g42b svedese vediamo a livello meccanico per primo questo affare qua visto che comunque è del 42 viene prima e quindi e quindi lo analizziamo prima e vediamo le similitudini con il toccare vai max questo qua possiamo anche permetterci visto che si fai sveltissimo di smontarlo vai devi prenderlo sia davanti che dietro un'altra cosa furba ecco qua abbiamo porto atturatore va portato in avanti porta indietro e quando va a sbattere va in chiusura non so neanche come si chiama questo meccanismo comunque alla fine meccanicamente per quanto funzioni al contrario di quello che uno è abituato a maneggiare un otturatore la meccanica interna anche qua mi pare sia un tilting bolt esattamente l'unica cosa che vediamo adesso vediamo intanto che questo affare qua è super furbo perché allora aspetta bisogna fare come facciamo per far sì che allora aspetta perché qua bisogna stare attenti a non chiavarsi le dita spingiamo avanti tiriamo indietro ok adesso è insicura caviamo via il blocco dietro caviamo via il anzi tiriamo via questo tiriamo via questo ok quindi vediamo le caratteristiche intanto il corpo dell'otturatore come dicevamo è tilting bolt quindi uguale identico al toccare perché proprio perché non è non è non è una cosa a caso questo qua deriva è stato copiato appunto dal design russo che era stato considerato intanto anche perché il garand diciamo anche per motivi geografici era un'arma che in ben pochi si potevano permettere intanto di studiare perché non si conosceva non si e poi era era un progetto era un progetto molto particolare quindi sia tra i due si è preferito mandare avanti questo qua e sicuramente diciamo non è stata una mossa completamente stupida devi metterlo avanti e poi tirarlo indietro ok farlo cadere boh ok e quindi vediamo che come meccanica di funzionamento questo qua tra l'altro è intanto è pesantissimo è un bagaglio pesantissimo questo ci torniamo dopo e la particolarità di questo fucile qual è che a differenza del toccarev dove la l'azione di riarmo è trasmessa la spinta dei gas esatto è trasmessa da un pistone questo qua ha una particolarità è un presa diretta questo qua è stato il primo fucile a direct impingement quindi a presa di gas diretto dove proprio lo stesso gas il gas invece che far muovere un pistone viene convogliato dentro un tubo stagno e viene a e fa muovere il gas stesso l'azione dei gas stessa fa muovere l'otturatore siamo stato per certi versi il progenitore del sistema stoner r15 e quindi lo rimontiamo allora vediamo quindi uno smontato tra l'altro questo qua io questo fucile qua che tra l'altro è stato gentilmente concesso anzi no non c'è stato concesso perché non glielo ho chiesto dalla sera grazie sera e questo si mandalo indietro chiudi togli la sicura farlo scattare ok bisogna stare attenti a fare qua è un attimo tranciarsi le dita vediamo come come caratteristiche invece questo fucile come sistema di incassatura è molto più diciamo un pochino più vintage perché facciamo vedere sotto la meccanica è tenuta assieme da tre viti sono un triplo pillar quindi un bedding super stagno sono tre viti che tengono l'azione e la canna viene tenuta giù da delle fascette come appunto nel car gustav nel m96 svedese quindi un fucile decisamente robusto diciamo anche a livello di peso se questo qua pesa 3 kg 3 kg 8 questo ne pesa questo pesa come il garand forse non è di più a livello del garand si pesa circa come un garand quindi ed è un fucile precisissimo è un fucile veramente veramente preciso questo proprio perché non si è andati a differenza di questo qua non si è andati a risparmi sul peso quindi diciamo come strutturalmente basta far casino strutturalmente su questo fucile qua non si è non si è tolto niente questo pesa pesa quello che dovrebbe pesare cioè diciamo questo è stato studiato per avere precisione tanta precisione anche perché a livello di cameratura questo qua è camerato per il 6 e mezzo per 55 svedese quindi una munizione che a livello di potenza pressioni saremo circa lì ma a livello di potenza insomma ne sviluppa sicuramente meno che il 7.62x54 per cui è camerato questo quindi abbiamo una munizione di calibro inferiore su un fucile molto più pesante quindi per forza questo affare qua è precisissimo ne esce fuori un fucile molto preciso e ok a questo punto tra l'altro ecco diamo un'altra precisazione quando gli svedesi diciamo giustamente si sentivano un pochino minacciati perché da una parte avevano i tedeschi che avevano occupato la Norvegia dall'altra avevano i sovietici quindi insomma erano due vicini abbastanza scomodi eh erano ancora armati con gli M96 Volt Action hanno deciso di iniziare un programma in super veloce e questo fucile nel giro di un anno è stato prodotto è stato credo abbia il record tra i fucili militari come il fucile che è stato che è passato alla fase sperimentale alla fase produttiva nel minor tempo possibile hanno dovuto anche loro fare una modifica in questa qua è la modifica B perché la prima variante era costruita senza le tettine queste simpatiche tettine che servono per avere più presa sul castello in teoria all'inizio dovesse essere semplicemente preso afferrato però appunto è un bagaglio liscio senza punti di appoggio non so come fai quindi nella nella variante B hanno modificato le appunto hanno aggiunto queste tettine e hanno migliorato il il diciamo il tubo di convogliamento di gas nella prima variante era intanto era avvitato tutte e due le parti e quando si scaldava un attimo andava a spingere sulla canna e il tiro rimane risultava sparsissimo sulla verticale qui hanno avuto l'accorgimento che è avvitato solo da una parte quindi è libero di espandersi col calore senza agire sulla canna e poi direi basta non credo che nella variante B ci fosse tanto altro e quindi direi che questo lo possiamo mettere da parte e ci lasciamo sull'ultimo modello l'ultimo modello è stato il Gewehr 43 diciamo l'ultimo in tempo in senso di adozione perché qua stiamo parlando appunto del 1943 di questo cosa possiamo dire meccanicamente? che è la brutta copia dell'SVT possiamo dirlo esteticamente più bello ma meccanicamente non so perché copiarlo hanno preso il tubo del gas senza forarlo pensando che fosse meglio hanno creato questo sistema di chiusura ad alette che sembra un fucile da caccia e non ne capisco il senso quando c'era già l'otturatore oscillante il Tilting Bolt che era fenomenale domanda quando poi hanno adottato l'SDG 44 nell'SDG 44 il sistema di chiusura com'era? no è così è a Tilting Bolt hanno capito che cos'era meglio l'ho capito come anche nei fucili d'emergenza della Volkssturm erano a Tilting Bolt tranne alcuni varianti che avevano una chiusura a gas particolare ma pensavo che i Volkssturm fossero dei zavagli dei zavagli proprio a massa battente no no ce ne erano a Tilting Bolt e altri con la pressione del gas ha spillata proprio appena dopo la camera che manteneva il pistone in chiusura e appena il colpo usciva dalla canna riarmava un sistema di gastra si sono complicati la vita i tedeschi sono veramente bravi a complicarsi la vita altre cose interessanti di questo fucile qua chiaramente essendo un pezzo forse è il pezzo tra tutti è sicuramente il pezzo più raro di cui possiamo disporre che purtroppo non è di nessuno di noi ma chi lo vuole? ma hai visto una molla così fiacca? eh ma perchè secondo me la molla qua è fiacca perchè a differenza del gara dell'SVT durante il riarmo punta tutto sul rimbalzo a fine corsa che bello è anche il motivo per cui questi affari qua bisogna starci cioè se ci si vuole sparare oggi senza mettere a rischio un pezzo da 3.000 e passa euro bisogna comprare qualche pezzo di sostitutivo diciamo sacrificale però insomma a dire la verità guardiamo una cosa in comune che hanno tutti questi pezzi diciamo europei se togliamo se guardiamo l'unicità del Garand vediamo che i pezzi i semi automatici europei hanno tutti in comune il caricatore ammovibile da 10 colpi tutti pensati per essere dotati di questo caricatore da 10 colpi qualcuno in qualcuno venivano dati dei caricatori di scorta credo che nei sovietici fosse previsto invece negli svedesi ce ne erano penso che i soldati finiti sono dati in dotazione addirittura 3 caricatori poi finiti quelli bisognava andare avanti a lastrine questa è una cosa comune in tutti i progetti europei altra cosa che si può vedere nei progetti europei è comunque i dispositivi di pulizia hanno tutti la bacchetta mentre invece il Garand è l'unico progettato per per essere diciamo per avere la bacchetta integrata nel calcio diciamo questo è un tocco di vintage anche la testina rotante si esatto i semi automatici per questioni di costo perché era la parte più costosa della produzione mentre gli otturatori oscillanti qua tenoni erano più economici quindi erano anche più facili da produrre infatti questa è una cosa che nelle produzioni europee si vede anche nel dopoguerra perché abbiamo tipo i come si dice i gli Safn belgi e quindi cosa si può dire Max per concludere questa questa vicenda decine decine di anni ingegneri per arrivare all'arma definitiva perché hanno capito che sparare delle mega teghe con dei catenacci serviva una sega hanno pensato di usare una cartuccia intermedia più furba anche questo lastrina da 10 colpi non integrale grazie a dio tilting bolt che è la cosa migliore uno potrebbe dire cosa ci voleva ma so farli più piccoli va bene anche per questa sera abbiamo concluso grazie a tutti per l'attenzione e è tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti